Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa ventiduesima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana da dove eravamo rimasti nella precedente puntata, ovvero dalla scelerata decisione da parte di Canonical di non continuare a fornire le librerie I386 sulle prossime versioni di Ubuntu. Questa decisione è stata speramente criticata sia dalla comunità di gioco che dalla comunità di Ubuntu in generale. Ci sono state delle ripercussioni a seguito di questa decisione, Valve ha deciso di fare un comunicato nel quale in sostanza diceva che non avrebbero più supportato le prossime versioni di Ubuntu e non avrebbero nemmeno più consigliate. Proprio perché per poter far funzionare alcuni dei giochi con Wine e Proton, giochi presenti su Steam, c'era necessità di avere il supporto multilibre quindi di conseguenza la decisione di Canonical Italia e Tutucur li avrebbe messi in ginocchio. Non solo a loro ma anche ad altri player. Ci si è accorti poi che questo problema riguardava non solo Steam ma anche applicazioni legacy e driver di alcune periferiche. Basti pensare come nel mio caso delle stampante di Brother che necessitano di supporto I386 per alcune componenti dei driver. Da qui la decisione di Canonical di fare un piccolo passo indietro all'inizio settimana facendo una piccola ritrattazione dicendo no vabbè abbiamo scherzato facciamo così frizziamo alla versione presente su Ubuntu 18.04 le librerie I386. A Predicello c'è stato un altro vaso di Pandora, altre critiche che gli sono piombate addosso anche perché non è così semplice frizzare una versione e poi mantenere la compatibilità con le versioni successive perché la gestione delle dipendenze prevede che sia aggiornata anche la versione delle librerie. Canonical quindi ha deciso di fare un comunicato ufficiale e ha rilasciato una dichiarazione. Che adesso vi leggo. Il team di Ubuntu continuerà a fornire una selezione di pacchetti I386 a 32 bit per Ubuntu 19.10 e Ubuntu 20.04 LTS. Verrà messo su un processo comunitario per determinare quali pacchetti a 32 bit sono necessari per supportare il software legacy ed eventualmente verrà aggiunto qualche altro pacchetto post rilascio nel caso sia necessario. Gli sviluppatori lavoreranno anche a stretto contatto con Wine, Ubuntu Studio e a comunità di gioco per usare la tecnologia dei container a fine di predisporre una soluzione a lungo termine quindi con Snaps e RxD. Vedremo cosa intende fare Canonical in futuro. Comunque per adesso capri cavoli sono salvi. A seguito di questo annuncio da parte di Canonical anche Valve ha fatto un piccolo passo indietro e ha deciso di... ha annunciato che dato gli attuali sviluppi saranno probabilmente in grado di continuare a supportare ufficialmente Steam Studio. Quindi diciamo pace fatta o quasi. Aspettiamo poi nelle prossime settimane ulteriori sviluppi sulla faccenda e speriamo che si risolva nel migliore dei modi. Mi stupisce che non è canonica, non abbia pensato a tutte le implicazioni che una decisione di questo tipo potesse comportare sia riguardo software e quant'altro ma anche riguardo proteste da parte della comunità. Comunque vedremo nelle prossime settimane che cosa succederà. Per adesso abbiamo quasi salvato la situazione. Passiamo adesso al mondo Microsoft. È stata rilasciata sul Microsoft Store la preview di Windows Terminal. Si tratta della nuova applicazione terminale lanciata da Microsoft per Windows durante la Build 2019 ed è stata rilasciata per Windows 10 con licenza open source. Le sue caratteristiche principali includono il supporto alle schede, il supporto dei caratteri Unicode, UTF8, un motore di rendering del testo accelerato, GPU, temi, stili, configurazioni personalizzate e quant'altro. Ho visto tantissimi utenti Ubuntu, Ubuntu, Linux in generale, che si sono messi ad elogiare questa applicazione perché è molto ben fatta ed è anche un plauso a Microsoft che avrà rilasciata. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate del piccolo dono di Microsoft per i suoi utenti. Passiamo adesso a parlare di un annuncio che è stato fatto questa settimana da parte della Raspberry Foundation. È stato annunciato il nuovo Raspberry Pi Model B4. Le specifiche di questa nuova versione includono un nuovo processore un po' più potente, la possibilità di avere tagli di ramo di 1, 2 o 4 a seconda del modello, wireless AC a 2,4 e 5 GHz, Bluetooth 5.0, low energy, due port USB 3.0, due port USB 2.0, le solite porte che abbiamo, due porte micro HDMI con supporto a 4K a 60, abbiamo per la prima volta una GPU più potente che consente la decodifica 4K a 60 in H.265 e anche la decodifica nativa H.264. Altre funzionalità, altre cose di questa versione degne di nota è che c'è la possibilità di eseguire flussi video in 4K su due monitor contemporaneamente con la decodifica audio e dei video H e WC. Il prezzo, anche in questo caso, il prezzo è in linea con le versioni precedenti, si parte da 35$ per il modello base, a cui poi va aggiunto i case, l'alimentatore, la scheda di memoria, ovviamente mouse e tastiera. Ho visto molti utenti che si sono detti interessati a acquistare anche per sostituire il proprio desktop, comunque è una bella macchina. Per l'occasione è stata comunque anche aggiornata la distribuzione di riferimento, quindi è tutto ottimizzato, è tutto funzionante. Passiamo poi alle due ultime cose postate questa settimana. La prima è una recensione di maglietta bianca del suo Pixelbook. Qualche settimana fa aveva pubblicato una recensione di Chrome OS su un altro device e ha deciso di prendere adesso un Pixelbook usato e ha voluto scrivere delle prime impressioni sui primi minuti di utilizzo del Pixelbook per cercare di trasmettere al caldo le sue sensazioni che è appena aperto e utilizzato. Andatevi a leggere questa sua mini recensione, è davvero interessante. Lui fa anche alcune considerazioni sulla possibilità dell'uso quotidiano, sul consigliato a meno e quindi andatevi a leggere, è molto bella, molto interessante. L'ultimo post di questa settimana è una editoriale confessione, sfogo, come lo volete chiamare, sempre di maglietta bianca riguardanti il mondo Linux, dal titolo Confessioni di un vecchio Linaro. Lui, Enrico, è un tente Linux di vecchia data, ha iniziato con Mandrake, ha fatto, come molti di voi e come anche me, tutta la gavetta, è passato, è cambiato distro, si è trovato nella prima parte informatica, quella in cui se qualcosa non andava è semplicemente non andava perché non c'era il supporto hardware, ha visto l'evoluzione, ha visto i fallimenti e i successi di Canonical e quindi lui nel suo post confessione racconta tutta questa evoluzione e dà il suo punto di vista sullo stato attuale, su quello che manca attualmente per potersi imporre e fa anche un paragone con Chromebook, con Chrome OS. È molto interessante, sta suscitando un bel dibattito sul blog, ci sono tanti commenti, andatevi a leggere questo suo sfogo, questa sua editoriale, questo suo intervento, magari lasciate un commento, i commenti sono sempre molto graditi e condividetelo se avete la possibilità, spammatelo sui vari siti, sui vari forum e quant'altro perché sono molto interessati a sapere cosa ne pensate voi, anche perché alcune cose io le condivido, condivido per esempio una delle sue frasi che ho evidenziato poi nell'editoriale, una frase che mi ha colpito molto e che condivido è che lui dice come gruppo non siamo mai stati capaci di mettere il bene della comunità, del progetto, di un ideale davanti anche alle legittime aspettative individuali, quindi Linux è il sistema operativo in cui puoi trovare mille e mille ruote a metà ma nessuna ruota finita, ed è anche una delle critiche che faccio io, non a Linux come kernel, ci tengo sempre a sottolineare la distinzione tra kernel, Linux inteso come una qualsiasi distribuzione, quindi non andatevi a attaccare sulla parola come fa uno Starman, ma Linux inteso come insieme di kernel e distribuzione. Comunque condivido parte del suo discorso, non condivido per esempio io la parte su Mark, perché Mark Shuttleworth ci ha messo del suo, ci ha investito parecchio denaro, quindi lui ci credeva nel progetto, ci credeva nella possibilità di offrire Linux, di offrire Ubuntu alla massa, tant'è vero che attualmente è anche una distribuzione in riferimento per alcuni produttori come Dell, come Lenovo, come HP, come Acer che hanno rilasciato in passato e che attualmente rilasciano versioni dei propri portati con Ubuntu, quindi diciamo così, gli accordi ci sono stati, c'è stato questo interesse, c'è stato anche un interesse da parte di Microsoft e Ubuntu e alcune delle sue tecnologie, quindi comunque lui ci ha messo del suo, poi le cose sappiamo bene come sono andate, comunque fatemi sapere che cosa ne pensate, lasciate un commento, condividete, fate tutte le cosine vostre. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci vediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box, ciao ciao!